Ma non è adesso! 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 Il primo gol della storia del Novara FC porta il tuo nome! Sono contento per aver fatto il gol ma soprattutto per il risultato che alla fine conta solo pure sono contento perché i ragazzi nuovi siamo tutti nuovi e stanno dando il massimo stiamo lavorando in settimana e come ho detto prima non era scontato di fare il risultato di Buenos Aires nel puerto di Santa Maria del Buonai Paolo González si libera di un avversario cerca il tiro a giro e gol! Gol! Gol di Paolo González grandissimo gol Per me che sono un capitano L'importante è che abbiamo vinto, è stata sofferta, non era scontata e oggi è una rinascita di un nuovo Novara, di una città che merita più di questo. L'importante è di un nuovo Novara, di un nuovo Novara, di un nuovo Novara. Sono contento di essere arrivato a questo numero, a questo record, sono arrivati tanti anni fa, non l'avevo mai immaginato. Quindi, approfitto a ringraziare tutti i miei compagni che mi hanno permesso e mi hanno dato la palla per poter segnare. A tutti gli allenatori, a tutti gli studenti che hanno lavorato questi anni per la Novara. Quindi ringraziare a tutti i tifosi della città, a tutti quanti. Non finirò mai di ringraziare a tutti perché è grazie a loro che sono arrivati questi gol e queste satisfazioni. Esce il collettorio di giornale, Pablo Andres, González! Continuare a attivare il Novara come sempre ho fatto. Grazie mille di cuore, grazie di tutto, grazie della maglia, grazie mille e ve la ridò perché questa maglia è di voi. Abbraccio, grazie mille, grazie a tutti.